Con il tecnico Luciano Cerasi, Mattedì, già di nuovo campionato, domani arriva la Vastese, non serve neanche sottolinearlo, gara fondamentale. Sì, gara importantissima, è un valore unico, poi anche perché viene in mezzo alla settimana, in mezzo settimanale, sono delle partite particolari, c'è ancora la adrenalina della domenica, quindi non si può preparare la partita come l'intera settimana, quindi è una partita che riserva molti insidie, molti rischi, quindi per noi è una partita che ci dobbiamo far trovare pronte a prescindere. Oltre all'insidie del turno settimanale, arriva anche una Vastese che ha in rosa delle ottime individualità e è una squadra da prendere assolutamente con le molle. Io sinceramente penso che la Vastese abbia raccolto di meno di quello che ha fatto vedere, quindi sarà sicuramente assetata di punti, di risultati e soprattutto di conferme perché fare bene qua per loro è fondamentale. Quindi detto questo, noi lo sappiamo che questa cosa da parte loro c'è, dobbiamo farci trovare pronti e ribattere colpo sul colpo, ma sotto tutti i punti di vista dobbiamo essere determinati su questa partita. Rispetto a domenica, alla rinfermeria ci sono novità? No, infatti sono gli stessi convocati di domenica, la rosa è uguale a quella di domenica, non ci sono nessuna novità di rientri. La rosa è uguale a quella di domenica, non ci sono nessuna novità di domenica,